Nei giorni scorsi ha preso il via la quindicesima edizione del Festival Capalbio Libri, uno degli eventi letterari più attesi d'Italia, grazie alla presenza di scrittori e giornalisti di primo piano. Un festival che si è costruito negli anni, sono stati infatti 173 i libri presentati e 181 gli autori, con 383 ospiti che sono saliti sul palco rosso delle passate edizioni. Il primo incontro è stato all'insegna della memoria grazie alla presenza di Edith Brook, premio Strega Giovani 2021 con Il pane perduto, già nota al grande pubblico e non solo come una testimone della Shoah ungherese, ma anche come scrittrice, poetessa, regista e traduttrice. Dopo la presenza di Luca Ricci e il suo Gli Estivi, sul palco allestito sul sagrato della chiesa di Borgo Carigie è salito Michele Santoro, che ha presentato nient'altro che la verità. Gli ulteriori appuntamenti vedranno per protagonisti, tra gli altri Gabriele Romagnoli, Andrea Albertini, Roberto Napoletano, Giovanna Pancheri e Paola Pilati. Capalbio Libri quest'anno vive un'edizione di vera trasformazione, così anche i lettori più giovani sono diventati protagonisti e spettatori di un format a loro dedicato, il Capalbio Kids, perché il piacere di leggere si coltiva e si consolida nell'età infantile, l'ha dichiarato Andrea Zagami, ideatore e direttore di Capalbio Libri. Un'altra attesa novità del festival è Capalbio Talks. Questa prima edizione darà spazio a tre incontri, il primo dedicato a Niki di Senfal, il secondo all'identità di genere e l'ultimo appannaggio della Maremma.